E' sbappando? Sì E' sbappo E devo dire che sta funzionando No io no sto finendo una roba Perché l'ho presa ieri sera la sigaretta elettronica L'ho presa ieri sera la sigaretta elettronica E ad oggi di sigarette normali ne ho fumate tre Quindi Calcola che io fumo quasi un pacchetto al giorno Quasi 20 sigaretta al giorno E' arrivata un po' di gente Ciao amici Stavamo parlando di Overwatch prima Ma come ciao è la prima volta che riesco a seguirli in live E sei pure subscriber Grazie Grazie mille Infatti non ci seguo in live ma comunque Subscriber Sì ovvio Ci mancherebbe No sta mappa Ah ancora buggata No ok Ma sono morto Sono nato morto Sono entrato nel server morto Sono io moro Come vuol dire sono nato morto Sono nato moro Ah ancora Sono vivo Ho già finito Ho visto un video di un accendino elettrico E' interessante Perché no Per l'accendissi i cari della macchina Ad esempio Beh beh Però per la macchina per forza Questo è proprio Dice che oggi vi facciamo TTT anche di sabato Sono fuori gioco Si entrano tutti Questa volta Sto allodando qualcosa Subscriber Grazie mille Mimmo 0493 Grazie mille Eeeh 06 perché chiamo da fuori Roma Seve non risponde Sei dentro il tuo dieta Ma si E infatti Approfittiamo di il signor Mimmo Per ricordare appunto Di fare manualmente Esatto Solo quelli che hanno Twitch Prime ovviamente Gli altri È automatico Se l'avete Se avete Fecondato con Twitch Prime Dovete rifarlo manualmente Esatto Se volete rifecondarci No niente Non mi Mi fa che servere Offline Prova a riavviare Io sono dentro No Facendo usciti Ma sono in preparing Oda che ci ci si può Faccio così E' fastidio che c'è lo scaracca Che non riesce a stare Trajato ma è piccato con la punta Nel terreno Stai facendo Perché avevi un sacco di ping Subscriber Grazie mille Durissimi Grazie durissimi Cosa ho detto io Ciao Abigail Stavo entrando Non mi funziona Twitch comunque Siamo duri Come il signorino Siamo tutti duri Aspettiamo che entri la gente Subscriber Ancora Mattex Grazie Mattex Quanto siete belli Sì è colpa tua Francesco Chi è? Che ha detto Robbe Siete in po' Chi entra? Se vuoi Robby Non ti eroghi Se vuoi Se non ci vuoi Io ti voglio Sparacchiando Marco mi spara Io rispondo al fuoco Io vorrei fecondarvi In modo più maialo Corn Cioè Mark Disponibile Sempre lo sai Ma corn Io me lo prendo io Dammi la mia Ma è morto Corn? Corne Aspettate uccidervi però Aspettate No ma è colpa mia Ti rompo il petto Adesso ho preso Ti ho preso Funzione No Tantro come hai fatto Ma non stavi sparando Con la pistola Con la deagle Posso entrare Eh sì Vabbè Pare che volte in giro Senza deagle Sono me che è un nabbo Deagle 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 Aspettate Ma solo un colpetto E basta Twitch che mi dice Che siamo in due Aspettatori Credo sia proprio Grandi Un pelo Buggato Grandissimi Già solo noi Grazie 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 Due super Però moro la finestra Non c'è di che Deagle Beh comunque grazie È per vera Gli controlli il pene Veda se c'è la pelucca del nabino Molto al pene Vi vogliamo Adesso sto entrando Ciao Gina Ciao Haltine Sono Tutto duro Quasi dentro Sub Un subacqueo Chi è Chi è Fammi vedere Il signor Fabio Pollo Grazie mille Fabio Pollo Come cazzo ci sei arrivato La gatta Siamo Tre Quattro Cinque serie Manca uno Squish No sto entrando io Adesso mi trena a serve Finalmente Gatto Fermati Tre Due Uno Ah Io ti ho sparato Comunque Sì sì Ah Ero stato Leggermente più veloce Guardalo Karim Senza T.S Siamo sette Quindi Ah non è più giù della Moreira No Io Tobi senza T.S Adesso che sto giocando a Conte Devo ricambiarmi Perché oggi ho giocato Con gli italiani Eh Stiamo attivando Inventati un'autonome Karim Michele Cucuzza Volevo Ve bello Mi fa ridere Mughini Ma sono in acqua Io rispo lì Te lo propongo A sto giro Gianni Fantoni Lo nomino sempre Eh allora ci va Ci sta Gianni Fantoni Dai E Severino Adesso ci sarà un'esplosione Su Steam di gente Che si chiamerà Gianni Fantoni Facendosi per te Madonna Salutami Severino Ma dai Ma guarda un po' Sono il cane di Non fatti dei decadenti Ah pensavo Francesco Con Severino Eh eh Ho detto Severino Ciao Karimurlock Oh È morto Ma le munizioni del fucile Dove sono? No non è morto Non sta tranquillo Quel dromedario Il dromedario Il dromedario io Franco Pini Anche effettivamente Franco Pini Franco Pini Perché non Roberto Ciufoli Eh anche Roberto Vaglio Roberta Lanfranchi Che era la moglie di Pina Insegna Eh Maria Giovanna Elvi Questo Cosa stai facendo Adesso Questo è un deficiente Questo qua Sgamato Cazzo no Eh ragazzi Aspetta Ho il silenzione Il silenzione è silenziato Silenzione Lo uso Lo uso A caso Ma l'ho anche detto Eh lo so ma non leggevo il nome Vedo uno C'è chi Ah Lo volevi buttare di sotto eh Ancora adesso Dai Fallo Non so se tu io Mark è morto Oh mamma Mark è morto Non voglio fare niente Mark non ti bucci Ma stai zitto Dai Dov'è Mark? Non mi sto comunque Tutta la vita Scusami Non so dove siete Ah si dà su Che tiri di merda Ma che c'è il Jezer Che non ci uccide tutti Ma si è ucciso cazzo Il Jezer l'ha ucciso Il gacchio E chi è rimasto? È morto Quindi Non è vero C'è Corvo allora È morto anche Esprit No c'è Eh guarda Esprit Di merda Non sono io Non sono io Non si è mai a porta Non si è mai a porta Non si apre Ma con il fucile a pompa da lì Cioè non è Ma non tu l'altro Ma moro Potevi comprarti il cecchino Scusa Era tutto un bait Sei zitto Non sta fermo Che male Ma guarda che dolore Ma guarda Ma guarda Quanto dolore Fa più male la distanza Pistola Pistola Ma il cecchino Compra il cecchino Mi fa male comunque Non è possibile sta cosa Ressami Qualcuno sta svappando Io Ho sentito Quanto è costata Corvo La sigaretta solo 28 Dove l'hai presa L'ho rubata Esatto Però l'hai lasciato esatto Mentre correvo Mi è caduto il portafoglio E c'era quello Che sfiga No da vaporoso Dov'è il maiale Ma non lo senti Stronzo Eh cercandolo lì Non lo trovi Mortola sicuro Ma non glielo dire Spoiler Ciao Oh 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 Quanto cazzo di danno Gli ha fatto Eh Eh mancatissimo Cosa gli hai tirato una bottiglia Ma credo che gli si è atterrato sui piedi Amoro Questo mi hai colpito Con il cecchino No prima prima ancora Dico Prima col pompa Col pompa mi ha dato 100% di danno Da distanza lunghissima Ora che il pompa Ma il pompa Fa un culo Va bene Il pompa è effettivamente più gittata Ho capito Quindi è ancora baggato il pompa Fa un culo E il pompa Questa matta quando l'abbiamo fatta L'ultima volta Ah già Ieri penso Perché mi la facciamo ogni giorno Era una frecciatina No Sei simpatica A me No Era così Oh sono il desktop Anche io a me piace Il desktop I'm the best A me piace Allora Va bene Mi piace E perché pensavo che ci stessi mirano Questa è una sumogena Guarda che svapo Corvo Minchia Che svapo Grazie Freddy Ieri del Moro Ieri del Moro Perché mi stai puntando con la spada laser sei pericoloso Ciao Moro Hai sparato Robert No io ho il rifle Che che si è rotto le tipi Il rifle Esprit coglione Si E coglione chi non lo dice Avevo visto Moro scappare in acqua Ancora in acqua va col Mimmi lini Allora Moro Cosa stai facendo Allora Cosa vuoi Vorrei uscire Esprit comunque mi sta un po' tampinando Vorrei uscire Tampina perché sospetto di te Perché mai Scusa Non è ancora successo niente Ma c'era un isolo da qualche parte Come ci si arriva Se sei traditore Però se sei traditore ci arrivi Davvero? Come mai Roby ti fai queste domande Eh non lo so Perché volevo andarci Perché vuole informarsi Lei è una persona culturata Perché entro le talità di cos'è Tauro mi come stai? Mi puzza caremo Ma un pochino a me Mi puzza caremo Mi puzza caremo Mi puzza caremo Mi puzza Mi taglio in bagno Perché mi sono feso dal gatto No sono in set Dal gatto Vado a vedere A chi si è caduto questa E' la casa mia Ti si è offeso Che è stato? Dì? E' stato io L'agentere Ma Il mio telefono fa rumori Da c'è finito E mi Non passo Ma questo qui è un altro Ma cosa mi spazzo Da dove? Credo al piano sotto il mio Ma è nella casa quindi Tutti alla casa Si sono sul tetto Un emoro Un emoro Crettino Parano forte L'ho ucciso L'ho ucciso Mi tradì merda Con la scossa Che cazzo ti hai venuto in mente? Ti ho visto ammazzare gatto Ah ok Mi inti Ti stavo per uccidere Ti stavo per uccidere Nathalie Io ho rotto la finestra Scusate What's my destiny? Dragon Ball Io Ti salto sai Dragon Ball Oh Eh vabbè Ciao Moro Eh no Quanto è morto solo gatto Io ero convinto fosse morto un sacco di gente Ma non è sederti sopra Beh permesso Ciao Farber Ciao Marco Allora Moro Grazie mille per la scuola No dottore Prego Comunque direvo Sidenziato Ha sbagliato? Ma mi spara Mi spara Mi spara Non a caso mi spara Che è stato? Infermere Gli controi per Veda se c'è la priongo del lì No dottore Non lo vedo Ma succede? Ma c'è ancora quella pistolina Che spara a caso? Eh si c'è ancora Mettilo da qualche parte Una granata Vai lascialo giù Aspetta No è una pistolina È a sopra Butta l'in acqua Butta l'in acqua Scusate Butta l'in acqua Ma lì lo risuscitano Ma no in acqua Ero in morlo Io voglio questo Blu 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 Una carata Blu blu Mi nascondo Chi è stato? Ma secondo me è carino No no Ma è esplosata una frag Mi sa Sì è esplosata una frag Vicino a Esprit Eh si Dopo che sei passato Esprit Inziato a sparare a caso Corvo tu eri lontano Ma io non sono passato Io sono nel palazzo Ah ho visto che si è iniziato Ah dunque ho più si è iniziato Sì si è passato un po' Cioè per me Ora che io da là Faccio arrivare una granata qua Mi sembra improbato No anzi sparai colpi a caso No no dai voglio usarli Chi è che ha ucciso Moro? No sparai colpi a caso Aspetto di Karim Chi è che ha ucciso Moro? Esprit No no io l'ho ucciso Io l'ho ucciso Però Esprit l'ha accusato Karim e Corvo per esplosione Eravano tutti qui gli altri Ma io ero laggiù Oddio Laggiù In realtà Marco potresti essere laggiù Poteva arrivare Cosa? Potresti essere anche tu No no io mi sono ascolti in casa Per evitare la granata Mi avreste visto eh Per evitare qualsiasi cosa Vabbè Nascosti in casa quando Esprit l'ha detto granata Vado a fare un giro da solo Granata Perché si subiscrive da solo Moro? Perché no? Esatto Canale mio Ma io non capisco Nel cellulare vedo soltanto Quello del Twitch Prime Subscriber 13 mesi Vedi questa non la vedo L'IKEA Grazie Oh l'IKEA Grazie l'IKEA Perca puttana Marco Bisogna crearsi una via Karim Ma è inutile Ma sei passato? Eh si Come hai fatto? Dalla finestra scusa Mi pare c'è solo un modo di entrare Eh non lo so volevo tenerti fuori Dai Karim fammi vedere che sei tu Fammi le febbre Mamma mia Allora Eh ma ma sci Ma sciato Ma non lo so Ma sciato Ma sciato Per favore Marco se ti levi dei coglioni Guarda che non mi devi Guarda non so che tu mi stavi mirando No 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 mica adesso Porca puttana guarda Gatto io lo so che E Karim Fammi strada C'è qualcuno che sta sbattendo dei cadaveri là dentro Chi è? Mark Come amico mio Non so nuotare ho freddissimo Guarda che lo resti eh Come faccio ad arrestarlo? Agitandomi un po' Se gli volevo sparare gli sparavo eh Esso è finito di camperando No espo stai camperando tantissimo tu Io voglio tirare un po' Ho fatto subscriber Mi controlli bene Vedete se ce la prigono del mio No dottore Io guardo live Grazie mille Qua c'è il gatto Infatti la sta guardando Come andato Marco? Eccomi con il tuo sito forte nel microfono Ma Guarda che è carino Io lo so Ma quindi? Ma secondo me è carino Ma credo che manchi poco alla fine della pasticcia Sparatemi E non posso Io vado a farmi Ma fai qualcosa di estremo Prima di Perché non vuoi Sennò vittore di coscienza Ma perché mai no Non è abbastanza Ah Tu non sei abbastanza Roby Non so Prova a farti crocifiggere In qualche modo Per il musa L'ho visto Hai la tutela Vi ho detto lui Dovevi tirare Che avremmo un colpettino E per me Gli potrai bene Veda se ce la prigono del mio Grazie Giacomo A Giacomo Gal Però un colpettino Da qualche parte Che si caccavano tutti dosso Non capivano Eh ho usato la pistola silenziata Che sparava L'ho colpito Esprit E' male Che male Ah Non prendo A Marco ma la mira La mira Come cazzo è beccato Ma io gli ho sparato Tutti i colpi in testa Dovrebbe morire con un colpo solo Eh sì Beccato in un modo un po' stano Marco Ci ho preso tipo la spalla Quando esprit E' iniziato a sparare a caso Vero Posso ammirare Chi l'ha ucciso Quando ho sparato a Esprit Io speravo che Roberto Tu gli sparassi Perché hai iniziato a sparare a caso Ma a te non ha avuto effetto Eh no perché non mi ha colpito Più che altro Per pochissimo Non l'ho colpita Poi a Roby Eh ma infatti Io ho sparato Sperando che la colpissi Ma cos'è è una pistola Che ti fa sparare a caso Ti fa sparare C'era un uomo Non usa mai nessuno Un sombra Sbossona Adesso ho sbagliato E faccio dire C'è una pistola che mi fa sparare Ma anch'io voglio il termosifone L'oro Quanto era? 12 mesi? Forse 10 All'anno credo Eh like a yi An 13 mesi Forse domani Tolo attiva Ah no Come 13 mesi Dovrebbe già averlo Tecnicamente Dovrebbe già averlo Cos'è una forma di parmigiano Prova magari a sloggare E vloggare Da Twitch Sì se lo sto ascoltando Ci sono Ah questo sei uno stronzo Allora Allora Devi spararmi Marco Devi spararmi Assolutamente Non te lo dico Crettino di me È spaventato È morto uno Ma dove? Sono sul tetto Sul tetto Qualcuno sul tetto Mori mori Esprit ha ucciso Moro Io ho ucciso Esprit È un riflesso È un riflesso È un gatto È un riflesso Hai capito Ha fatto bene Esprit ha ucciso Moro Sì no ha fatto bene Però Ti ho spunto in testa Moro Che è freddo È freddo Mi hai scaricato un caricatore No no È a dire ho 4 colpi È fanculo scusa Stavo il primo ma corgo No Stavo guardando dietro Se mi sparavo È gatto È morta Roberta È morta Roberta Io e gatto non siamo È deficiente Col silenziato E allora È corvo Molto probabilmente Perché era l'unico Della parte opposta È l'unico Della parte opposta Sì 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 E l'altro è Karim Quasi in mezzo Sapevo che era Karim Guarda Aià Sono corvo e Karim Madonna Corvo l'ho ucciso Purtroppo È gatto Era chiaro Corvo No no È qui Ma non so Sono morto Ah no perché Vedevo solo la testa Per quello T'ho ucciso Occhio Leza sei vivo Sì sì Io gatto siamo vivi Io ho ancora un colpo di silenziato Lo userò E dentro una di queste cose qui Aspetta No scusa Marco No no Ce l'ho io È morto qualcuno È morto gatto Leza Lo so lo vedo Mettete ansia però Chi ha fatto palo È sopra è sopra è sopra Non so quanto dobbiamo spararci È sopra Tiro un incendiaria sopra Non c'è andare Leza Avete cambiato le posizioni Tra l'altro Scendo giù scendo Ma dove l'hai tirato Dove l'hai tirato Ma che forse si è buttato in acqua No Ma curati L'ho ancora il silenziato Io comunque Ah sì tu Comunque ora mi sono sospettato Davvero prima Perché ero di spalle Su un po' dino C'è un coglione Marco dove c'è andato Ma dai Che figura di cazzo Ma che cazzo è successo Ma come è morto Ma che è ormai dietro Ma che è ormai dietro Che mi eravamo la finestra Souscriber Giù molto del 86 Probabilmente Ha vinto il mondo Che merda Grazie Dani Collu Dani Collu No Prima che è stato La finestra è imbazzato Comunque È come il gatto Quando ha tirato la discombulator Verso la finestra Esatto Che figura Ma che va Perché non si vedono i vetri Sto cazzo di gioco No perché i vetri Non si rompono il cazzo Che sono una spaccasse quella volta lì Eh ma anche l'arpione Che ne so io Invece Praticamente ha ragione Karimuzo in questo caso Che figura Ma ancora in motel Puttana Tra l'altro ne ho Ficcato un picciolo in mezzo Sta lagando il sierve No Sì si è stammato Sì si è stammato Come fa Manu Fermi tutti Fermi tutti Hanno sparato Mi fa schifo scaracchio Scusate Allora Modemolo uccidere Che Puttana Moro Sono quasi venuto di sotto Sono quasi venuto di sotto Sono quasi venuto di sotto È caduto di sotto Eh c'è l'acqua Ma questo qui è un cretino Cosa vuoi? Eh sì Sì Ma questo è un cretino Ma è spiegato Lavami Questa l'ha sparato L'ho sparato Di sotto di sotto Guarda come mi lavami Incediare è qui Ma questo scende Ma sono 10 di vita 20 di vita mi ha tolto E' morto Gli Izar? No no Ah ok Ma Karim adesso Morto qualcuno Gli Izar? No lo so Ah mi sono anche Subscriber Eh Hanno sparato Andrew Lensfly Grazie Grazie Andrew Lensolo Poco la fonte di Karim Dov'è? È morto Gli Izar aspetta No c'è qualcosa che non va Adesso Lezar è morto No no io ci sono Sì? No no stavo guardando il ping Non lo scattavi ma non sei No c'ha Quanto c'ha 46 di ping Mi hanno sparato Io io Perché Ma è morto qualcuno Io non sto capendo No non è morto Io ho sentito qualcuno Gli Izar Sì sì L'ho fatto Ah Non è vero Io non ho sentito Chi manca la pella Facciamo un sondaggio Chi manca la pella Eh la Cicchib è ad esempio morta Ok Eh magari È mutata O magari è lei Moro Ti dico se è morta sono lei A sto punto Aspetta Corvo Cosa Corvo e Moro Cosa vate facendo qui Corvo e Gatto Qui dove Io adesso sono arrivato E non sapevo Gatto dove era Eh ma no Non avete detto niente Parlavamo di Adesso Ma sei mezzo Di sospetto Sono io che ho chiesto La Cicchibe Se era viva o no Perché Stavo cercando l'arma Perché sapevi che era morta Eh sì L'ho chiesto apposta Eh però Ma te sei un deficiente Allora Marco Se esplode ti uccido eh C'è un coglione che salta E mi rompere le finestre Marco Crettino Ti ho visto È una disco Ma che è caduto qualcuno È una disco Pugletta C'è uno cadavere lì Dove Dove In acqua Eh Sarà la roba Sarà la roba Allora Eh sì Sarà la roba Dov'è È in mezzo all'acqua Eccola qui Mi hai salvato Hai liberato la mia No Non vengo fino lì Anche perché se vengo lì Vuoi Sicuro Perché ti bani Perché qualcuno mi mirerà tantissimo Io Cos'ho Vado via Cos'hai tirato Ha scoperto un'incendibile verità Ha fatto splosh Ha sbagliato Ha tirato le banane Ma non hanno fatto niente Perché sono caduto Alcarimmi ha tirato Cos'è che ha fatto questo suono Con le banane di solito Ma non so Guarda che il muro mi sta accusando Perché è lui il deficiente Ma tu sei il deficiente Prato Robby ti ho visto cambiare arma Eh la roba dice Allora la roba dice Che è morta Non si sa come E l'ultimo che ha visto è Esprit Ahà Non si sa come Dice C'è il peschetto Ha visto sul tetto Io la scrivo una volta Ha visto Esprit E si è cagata sopra Esatto Ha visto qua in cima E basta una volta Ma dai Dispo mi sei affogata Alcune è caduto in acqua E io Potrebbe essere affogata No no c'è del sangue Qui sotto Dove Potrebbe essere un alpione Perché l'alpione Mi pare che dica Ma da dove l'alpione Più che altro Liezer vai a vederlo Eh ma ho già guardato Dice così Non dice armi Se dice così Sarà un alpione Ma non si vede dal teneco visualizer Eh no Eh no perché se non è Nella posizione in cui è morta Eh no no In realtà si è Usiamo il teneco visualizer Di fianco al cadavere Ti fa vedere Dall'altra parte Del Cuglioni di merda Con il tavolino Cos'è Dove è murato il tavolino E dove è andato Allora sistemiamo le sedie Ma qua non sta morendo nessuno Però E allora ruote No Ma sono indistruttibili Se sedie No non si possono rompere Allora Ma non sta morendo Barile Ok Ma non è Ma non lo buttate in acqua Non lo fa ad esplodere Non muore nessuno Che facciamo Non muore nessuno Perché esplodono Cuglioni Siete tutti vicini Siete tutti vicini Siete tutti efficaci Senti che si lamenta Ah Espit si ha aiutato tantissimo E perché è Espit che ha ucciso Allora che mi ha sparato Non si è esplodono Ho sparato io Scusa Sì il cugnone Perché lo stanno sparando Marco Ok ho visto chi è Chi è E dillo Eh non posso È nella torre Vabbè E credo sia gatto Comunque Guarda Mi avevo mutato un attimo Devo offendere per amoro Che attrò Che moriria Puttana Ha sparato a corvo In realtà potevo dirlo Perché ha sparato a corvo Non a me Però Stava tra l'altro scappando Quindi Sì Comunque è vero Eravate tutti belli a corpare E quindi è Sprit Va bene Moro sei vivo Moro è morto È Esprit Io non sono sicuramente Perché erano vicini Io se vedo Esprit Sì sì No erano vicini Quindi è nepalese Quindi ho uno o l'altro Sperate sia Moro E sia Esprit Ah Perché magari Moro Quindi Esprit Però il cadavere se vuoi È morto Karim davanti a noi Credo Sono morto davanti a voi Oh Karim Oddio Pele Zico Zago Marco Zico Zago Roberto Balle Che maledetto Le ha finiti i resi colpi Scusa No è lì sopra Le ha finiti i colpi Eh sì Tu cazzo di scaracca Vabbè io sto qua Finisce il tempo Allora? Guarda che tempo Ho aumentato un pochino Perché ho visto le persone Vedo il nome Vedo il nome Aiaiaia Botta da testa Vai Eliezer Eh raduno in Umbria Se ci date voi i soldi Per venire Sì Sennò Io ci vado in macchina In Umbria Cazzo Tu vai in Umbria Io non porto Il problema è Esprit Il problema Anche io sto piangendo Per gli infortuni Carissimo Però è Esprit Che bisogna andarlo A prendere a Verona Ma guardate Ah puttana Ma Che arriva a Verona Lui Non ho mica capito Mi sono spaventato Però non ci si è un sacco Ho avuto Marco Che avesse bellissimo Porca miseria Stavolta che faccio Una partita Martina Una Martina Cinque minuti Ho detto Non è che devi andare Devi traslocare Perché devo fare una partita Ma dai Ciao Martina Ciao Martina Ti saluta Roberta Esprit Adesso c'è un panchino Guarda che c'è Luke Io non la saluto Perché tanto non mi sente Io voglio che senta Ma allora Eh di già Eh madonna Che è successo Hanno preso la lettera Di ucciderlo subito Io non faccio mai Il traditore Che è successo là dentro Però almeno È morto Non mi spari Hai giù qualcuno Eh mi sa di sì Ho sentito sparare Tanti Hai giù qualcuno Cosa fai io Eh è morto uno È morto uno È morto uno Arroscola E Karim è morto Veramente subito È morto Io Tobi Il tuo collo è stortito Come si fa No È morto tutto È morto Quasi l'ho ucciso Vai Vai indietro Un dolore È sprit È sprit La mia È sprit Uomo è sprit Sì è sprit L'ho visto Robby Tu non sei morta Vieni con me Stai attento Vediamo se fa la provata Comunque Martina l'ho fatto per te Beh la provata Grazie Non è preso mai Comunque Cos'è Cluedo No No Vabbè ma in realtà siamo in set Ci sta Cluedo Ah no Cluedo non è quella pipa Sì è quella piccola È la Basi street anche Eh no è quella che se mettere la c4 Asplodono Beh basta non mettere le c4 No 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 non era quella Ah non era quella No c'è c'è gold Va bene Piero Ah vedi io infatti Io sono di monza monza È grandissimo Monza 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 Ah va bene Cuccia? Sì Cuccio anch'io allora Io e Robby ci stavamo ciucciando a vicenda Che schifo Ma perché Io ci sono morto Cosa è natura 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 No eravamo io e Robby seduti Eh sì Non la vedevo infatti lei Che f***e Ah questa macchina mi piace molto Perché mi ricorda Quando ero pico Mi dispiace Marco È solo che non potevano ucciderli E eravate in tre fermi E non c'è nessuno intorno Hai fatto bene Hai fatto bene Infatti sei morto come uno sporco traduttore Infatti poi ci sono morto intanto TALTO Sto notando Che tutti stanno condividendo il video Di sto cazzo di uccellino Con il granchetto No della pizza Ah di Piper Quello dell'X Sì Ma puttana vaca Nessuno ci va più al cinema Who are you Eh quanto fare Chi è entrato Vabbè L'hanno fatto uscire prima In effetti non ci stanno andando da una vita Qui era davanti alla ricerca di Dory Eh io al cinema Ma a parte quello gatto Eh sì A parte quello gatto Comunque uno dice È bello visto il cinema Ve lo condivido comunque Non ci sono andata a vederlo per esempio Hai fatto bene Non mi interessava Qualcuno ha già sfondato un pavimento Ma ho visto Devo fare Vabbè Però essendo che è uscito un mese No è uscito ad agosto Eh devo vederli Poi ci sono vissuto che viene con me Palle Essendo che è uscito più o meno ad agosto Il corto l'ha fatto uscire Perché tanto ormai La verità No capito La verità No capito che uomini Condividono come se fosse una roba incredibile Che sparo Sto io Eh forse nessuno ci è andato Ti sorpassa Hanno fatto tutti bene comunque E allora Allora Cos'è Chi è morto Sbagliato 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 Che cazzo hai fatto Sbagliato 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 Cos'ho fatto Cosa ha fatto E' quello dietro al pugno Eh ecco qua Difendimi La macchina Difendimi Cazzo devi guardare Prima di te Fatti fatti tu Allora Ma basta Cosa Amic Vado in lavanderia a prigione qui Parlo con le gnocche Si passa così Vado a fare la gnocca Vado a fare la gnocca Che è che ha fatto una scuola di gnocca Infatti stavo guardando se Tiro una discambuladores la in giro Questa magica c'è qui Perché mai questa Quindi era la gis the new black Andiamo a spritz E' spritz E' rimasto scioccato Rangelo a scuola di caso Vedo la mia spalla La prendo al volo Il titone è cretino Sei un cugnone mono È la fine È la fine È la fine È la fine È qualcuno che si è fatto male È qualcuno che si è fatto male Un tutuboli Sto succedendo di tutto amici L'ho trovato È la Roby che è caduta Come Merda È morto un altro Corvo estuoso Morto uno È il gatto Sei stato tu No Perché È arrivati qui È morto di corvo Ah ma era il traditore Ah Allora È successo È successo un problema Allora evidentemente Ciao Ma qui c'è un silenziazzo Sì Eh è vero Allora gatto Ma è anche la k Ma la lascia lì Metti via gatto Ma che se li prenda E in spritz Marco Ma che di te comunque Non è vero Tu e ci sarò Aiuto Sì l'ho uccisa io Ma questi sono altri di corso Ma dai sei ora Hai ucciso me Ti sei ucciso Ma in realtà non mi sono ucciso E si è attivata da sola quella cosa lì Ti pare E poi quindi hai ucciso me stronzo Ho ucciso te per Per Ragazzi se si vede peggio di solito Non è colpa mia Non Non cambio le impostazioni E non è colpa mia Se esperti si toglie Passa corvo al suo posto L'impostazione devi cambiare Eh non so Che dicono che si vede peggio Ma non cambio niente Le impostazioni Quindi Controllate se avete messo il source Che ti dì Che magari non sa mai Anch'io lo vedevo peggio Comunque Perché non è Non dipende da me Non è sicuro Deve aver cambiato No io non l'ho cambiato Perché effettivamente anche io Vedevo peggio Perché dovresti cambiare Mi nascondo Beh a volte cambiamo Perché è una volta Baffera Quanto Stanno sparando Ma è impressionante Ma è arrivato Manu Senza dire niente Guarda questo qua Entra E qua Ma è arrivato Un napoletese E poi Tu parli Manu Non muore al primo mai Ma c'è Manu Quindi era Marco Cioè io A sto giro l'ho proprio Mirato in testa Gli ho sparato tutti i colpi In testa E rosso Mamma mia Secondo me veramente C'ha qualche problema Di connessione Lui Ma è quello che dico Anche io Ma si L'avevo detto per H1 Eh E vale Qua C'ha 103 di ping Effettivamente Ma da connessione Con noi Manu Scusa Ma adesso Entrate Non è possibile L'ho minato in testa Con tutto il caricatore Rosso Non è mai succeduto Neanche con Esperit Porca vacca Ma scusa Ma non c'è SPS Credo di sì Ma si è 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 Ma dai potremmo fare Non cambiare impostazioni Se scarico la versione nuova di OBS Le mantieni Potremmo spodere i barilli Di altri barilli No comunque ti assicuro Che è più smarbellato Quello lo posso garantire Eh ma non posso watch me Cioè non è Ah Non lo so Ma spara Io ce l'ho Adesso l'ho messo a source Quindi Solo che adesso Dovevi avvisare No Eh ho avvisato infatti Mi sono fatto male da solo Infatti Un'unica Mi sono fatto Guardi bene Ho attivato Electricity Chi è che c'era L'inter che mi guardava No io sono Ma che cazzo Io ho visto solo S E ma io ho ciso Mark Chi è che poteva avermi visto Che stavo per passare Fortuna mi son fermato A guardare Mark Vai nessuno Lì Lì C'era qualcuno qui Beh Qualcuno ha chiuso la porta qua Non potrebbe essere la roba Sono stato io Per motivi di sicurezza Allora gatto No Perché Perché ha chiuso la porta Beh ma non è Chiudibile Cioè sono il retrovisore Allora gatto Quanta gente qui E le mie misure di sicurezza Siamo tutti chiusi dentro Adesso vi uccido Io no sono fuori Ho sentito un po' Stanno sparando Hanno chiuso il canale Guarda stiamo guardando C'è uno cento C'è uno cento Ma stavo passando Gli edzar Mi hai chiuso tu No non sono stato io Esprit ti lancio l'incendiario Allora Mauro perché non dovrebbe essere Mauro scusa Gli edzar vai via Perché non dovrebbe essere Ma mi stavano per attivare La trappola sotto i Ah Gli edzar è morto Ah no Esprit Esprit ha detto di aver ucciso qualcuno Chi è che ha tirato l'incendiario qui dentro Io L'ho detto Perché non dovresti essere tu Eh Che cosa ho fatto io Eh non lo so domando Ho fatto un schermar Che l'ho fatto Perché Partiamo dal fatto che Hai tirato l'incendiario a te E' sì ma Uno è andato sopra il fuoco Che cosa vuol dire Io Ah Ma se tu vai qua in mezzo C'è qualche trappola Sono la Robby o Corvo Eh Allora Robby Corvo Allora Corvo Ma a me mi stavano per Attivare la trappola sotto i piedi Ti sto dicendo C'è qualche testimone Donazione 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 Sì è vero comunque Donazione Mark Bocco 44 Che dice Questo è per smalbellarvi tutti Grazie a me Vedi esplosano Comunque Corvo Prima effettivamente Mi era un po' sospetto Per quale motivo Cioè Non lo so Mi stavi guardando un po' strano Ma c'è un genio Ma hai pure qua Dove? Io mi sono venuto verso di te E la Robby Ok hai detto Guardate guarda Robby Schermarissima Non potevo fare più niente tanto Eh no Robby io poi mi devi raccontare Cos'è successo In quello stanzino Con il carrellino Perché non l'ho capito Io quello stavo facendo Tra bello E infatti Ma a parte che era una stanza Che non l'avevo mai vista In vita mia Mi sembrava giusto Abbastanza in centro Per metterlo a C4 Quindi ho detto Ma ora che posso fare Posso farlo solo il traditore Ah siamo in set E in nove Quindi si può fare Secondo te Mi dispiace Marco Sono partito dopo Ma anche io Cioè Manu non è morto E mi sono fatto sgamare Ho ucciso solo Manu Ma così Ciao Luca Ciao Luca E sappiamo tutti Perché lo è Non si cita Poi Perché Terrone Questo è razzismo Lo sai Sì sì Razzismo No non è che perché è Terrone Perché è proprio di Napoli E quindi ruba Io per primo Perché io sono Terrone Quindi Chiaro Quindi Marco Vaffanculo Fai schifo Io rubo i soldi Io rubo le cose Sono calabrificiato Sono calabrificiato Sono calabrificiato Sono calabrificiato Sono calabrificiato Fatevi sottofaccia di merda Detecchi Ma ho sparato Manu Io lo spetti su Manu Mi ho sparato Manu Lo spetti su Manu adesso Mi era venuto a cercare dentro una cella Allora Però questo rumore deve finirlo Perché mi sembra sempre una c4 A me sembra un piccione Perché Un balcone mi pare No Un piccio Vengo da te perché ti voglio Bravissimo Io non ti voglio Vai via Ero sparato Io non mi ha sparato Marco Eh Che ti ho sparato Allora È morto È morto qualcuno Mi ha sparato Eh ma sei un coglione No perché E lui mi aveva sparato Tutti i testimoni C'è qualche testimone Inattendibile Io Eh hanno attivato la trappola Quanti morti Perché non dovresti essere te Perché l'ho detto io Hanno attivato la trappola Eh ho capito Vuol dire niente Eh tra l'altro è morto un traditore È morto Come prima O l'ha attivata lui E quindi O è Manu Manu però è praticamente morto Ciao Roby Come stai Sei morta È un po' Non bene È spretto però non era lì È cresciuto qua È l'unico che ha un minimo alibi È Manu Sì perché è praticamente morto anche lui Bisogna fidarsi di Manu quindi No Allora Vuol dire L'altro traditore Che è un coglione Comun Quindi è un macchio Vabbè sì La roba è morta Anche perché lo detecchi Ma che il Luke Non c'è tanta femmina Secondo me è Esprit Perché allora Questo scaggione è Esprit È vero È molto simpatico Corvo Perché non voglio fare il cu Potrebbe essere il Luke De la montagna Io non ho visto nessuno Vai Marco Ancora Bocco Che dice Questi invece sono per il piccione Smarmellato sul balcone Vedi grazie Ma poverino Cosa Un piccione Sul Io non ho visto Mentre succedeva Eh ma Dato che tu qua Non c'entri nulla Tra l'altro Perché vogliamo ricordartelo Ma il presente Un balire gigante Più o meno Adesso ci deve non farla finta Perché lui no Lui deve subire i tuoi insulti Rimanendo in silenzio E se li merita Non è così Ah è esplosa la C4 È morto qualcuno sicuramente È esplosa la C4 Lassù Esatto Morto Fra Ma non c'era Ma anch'io ho scritto merda Allora Ok Diciamo che 5 litri Volevo dire merda a mano Lezzar Corvo No Corvo Corvo No Manu sei vivo? Scusa Sì Manu mi sta ammigando Scusate Ma allora non è morto nessuno Ah più c'è Kate Sono Ero qua Come cosa ho appena c'è Kate da qua No Manu mi sta ammigando tantissimo Mi sono fermato Mi sono getto C'è la Manu che mi va con c'è Kiko Cambio l'arma così Non saperne leggere né scrivere Esprit e Manu Hanno attivato la trappola La puttana Stai abusando di questo modo di dire lo sai vero? O magari non sa veramente Ah ma c'è fai Ma veramente Può darsi E quindi Bene no Come dire Tutto è bene ciò che finisce sul penne Tutto Tutto Sì sì Tutti a bere ciò che finisce nel penne Che schifoso che sei Tanto è Scusa Moro Luke C'è su un coglione Comunque il miracolà Eh no Eh no Tu da Tu eri più Un po' di cinque Ora c'è bene Ciao amici Grazie Grazie a te Ma non sono morto Fastidio Luke è sopravvisto Una trappola Una C4 Arriva Ma non è stato il misticcio Sono morto E sono morto io Era mia C'è la trappola C4 E erano tutte mie Chi che ha ucciso quella bomba Poi prima Gatto Te ne ho ucciso te Io Cosa? No Sono il dentifricio La bomba Questa qua Quella vicina alla cucina Sono tutte le genti E te Ma da quella Hanno sparato già Parano come uscire Allora 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 Marco 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 Non entrare Marco Marco Ho detto che ho sparato i barili Ti sei fatto male Vero? Ho dato un bacino Ah Non si usciva Eccomi qua Io ho sparato i barili Ma aspetta Quanto stanno esplodendo Roba Tutta l'esplodendo Cagà Ma no Cosa è successo Cosa è successo Il coglione Ma scusa Ma scusa Ma era un discubuletore normale Corvo Eh sì Eh mamma mia Meno male Attivo la trappola Parano un barile No Dov'è Cosa Hanno attivato veramente la trappola No Non è una trappola Non barili E quindi Aspetta testo io Ah la granata Eh La granata Donazione Bocchi 41 Un'altra volta Un'altra volta dice Io faccio Tutto è bene quando finisce sul bene Tutto è male quando finisce dentro E beh No non attivo così Eh vabbè ma Non far le donazioni così A cazzo Sono soldi A sto punto moro L'attivo io la trappola No vabbè Falle le donazioni No Non che ci lamentiamo Piuttosto Fanne una corposa È volato qualcuno No Non sono uscito Da trovare il suo recinto Che culo Ho sentito È morto un defunto qui È morto un defunto Allora Mi sospetto numero uno Ok la mano Gatto Gatto Stava cecchinando col silenziato È la fine Sono morto Oh esatto Non è vero Il corpo è una persona No infatti piuttosto Se vuoi farci le donazioni Fanni una Ah c'è la rapione Perché altrimenti se li prende più Paypal Che noi E tu sprechi i soldi Quindi ti conviene Svapo Che altro farne una Magari da 5 euro E basta Ma sento sempre Se ne prende più Paypal Che noi Sennò i soldi e No ma è dentro la cosa La stanza Tieni Eh Volevi chiudermi dentro E farmi esplodere Ah ma non ho mai visto La stanza io Posso rompere È morto moro Dai Roby Guardate Non so io C'è Finch Che donna 4 euro E c'è error not found Giustamente Facciamo amici oggi mi sento simpatico Grazie Finch Sempre gentilissimo A me magari una curettina me la faccio Ok basta Come è morto moro? Mal mi pare Ma io ero nella stanza a fianco Silenziato Ma io sta parte non l'ho mai vista C'è una donna con le tette qui Dove? Dove? Ma dai Ma dai Ma dai Anna Minx Come se Sì è Dove c'è il ruolo di Anna Minx Anna Minx Tocchi Guarda Vieni qui Eccolo qua Paura per fare Dove sei? Sta facendo le cose Chiudo le porte Che cazzo Porca puttina Va benissimo Ma si è attivata da su Robi Eh no l'ho attivata io Ma come l'hai attivata tu? Ma come l'hai attivata tu? Perché mi hai fatto male? Perché l'hai attivata tu? Eh per Per una trappola Per i traiettori Ah ma si può? Terra de rose Ma si c'è Ma l'ha attivata L'ha attivata inizio partita Praticamente Sì c'è una donazione di Snowin Di un'ora e cinquanta Che dice Dato che oggi è il mio compleanno Volevo rendervi partecipi In questo bel giorno Dato che mi fate sempre divertire Quei vostri video Grazie ragazzi Tanti auguri Tanti auguri Quanti sono? Scrivicelo in chat Non c'è bisogno di una donazione Si sa che quando lo fai Anitona i termosifoni Beh è un obbligo morale Posso fare il detective? Ehi me fammi me fammi me Dove sei? Aspetta che la compro Mille persone che Mille persone che donano da comprare Sono davanti a Manu che saltella Non è un luogo Ho visto Manu saltare Manu che saltella È un riferimento Ciao Moro come stai? Ma ti sparo io guarda Gentile shock Tu sei shock L'ho presa Questo è un coglione Questo è un coglione Attento Esprit Potresti morire Questo è un coglione Vabbè Marco Mo io al massimo Ciao Allo ti muto la droppola Via 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 di qua Aspettiamo Aspetta che può arrivare anche di qua Il barile Ok Tenete d'occhio Manu Manu e Gatto Che erano quelli dietro Io non so Ammazzo Manu Eh, ho tu o Manu, uno dei due è sicuro Se sei sicuro che siamo io uno e l'altro Ma no, sono comunque due tra l'altro Poi vattene un po' dalle ordini Eh no, posso perché No, teneteli d'occhio Luke si sta curando, non so perché Luke giustifica questa tua cura Ok, un era moro Mi fa paura Mi fa l'altro che ho ucciso gatto Non erro Mi fido, Luke Ho ucciso gatto, sì Grazie Marco per la sicurezza che mi hai dato Eh ma moro era quello dell'altra parte E quindi l'altro è Manu Per forza È arrivato da lì È arrivato da dietro, se non è Manu è rimasto incastrato Mi spiace Stai parlando in modo giusto Manu però Eh ma non abbiamo prove Bravo moro Ora c'è una donazione Botto di te Ragazzi mi fate morire Ragazzi mi fate morire Che leggere le donazioni che non ha senso Io non lo sento nemmeno Sì ma ho capito Ma lo sapete È morto una persona Eh ma non Comunque noi dobbiamo star lì a leggere la donazione Quindi Luke Quindi non ha senso che Ma come si può lasciare? Ma no, togliamolo Beh poi vediamo Dovremmo tutti aprire OBS Più che altro Eh? Non basterebbe aprire OBS Il programmino? Cosa dice quello che? Eh sì dovrebbe sempre OBS Ma Sì ho capito Ma stai zitta Sara Non è vero Ma che schifo Le leggiamo noi le donazioni Non c'è bisogno del voto Guarda te Che vai in chat a dire stupidaggini No Sara È vero che piace di coreano Ma adesso sono più lunga di te Adesso è un coreano Eh vabbè Però volevi vedere come stavi da coreano Ho visto un discombolone Che l'ha tirato? I coreani sono proprio brutti Non so perché l'ha fatto Robby stai per caso camperando? Quindi di lì però Ti rendi di lìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì La prossima volta che abbiamo un minimo sospetto su Manu, sciocchiamo Ma non era, non aveva fatto niente Eh lo so, però era dietro Eh non voleva dire niente, però Eh beh, è un sospetto, infatti non gli abbiamo sparato Ma perché male? Un sospetto, perché era lì e poteva averla attivata da di fronte Ma cosa c'è? L'avevo attivata io Ah ma io non lo so, scusa, io devo fare i sospetti Ma allora c'aveva ragione lui, scusa, non è che se non lo sai uccide caso Ma che bello, ti sei suicidato poi Eh sì, però non doveva essere neanche sospetto Il sospetto era sospetto perché era di fronte Eh ma potevano essere sospetti anche tutti gli altri Ma infatti non lo sospetti anche tutti gli altri Ma infatti non l'abbiamo ucciso, Mor, è un sospetto significa che sei sospetto su di lui ma non lo uccidi Esatto È la definizione di sospetto, Mor Sì, però una volta che è morto uno Basta questa per me è l'ultima partita I sospetti si risentano in teoria No, duro Nooo In teoria è anche la nostra ultima No io voglio che ti fai, diga Dipende quanto dura E ti voglio bene Mi vuole bene Eh no, non te ne vuole Roby Non c'era con me Non c'è stare, lascia perdere Nooo Eh stanno sparando E' esplosi i barili tantissimo E' la madonna E' Sprit L'ho attivato, non passato E' Sprit E' morto Dimmi eh scusa l'ho mutato Si è uscito da là coi barili che stavano esplodendo Eh sì E' hai ucciso qualcuno E' un ucciso qualcuno Sì sì Aspetta Guarda a vedere No aspetta Si è passato di lì ma LA BIBIDONE Dove? IL BIBIDONE Che è dietro di Lezar Eh quindi non sono io Perché decisamente me l'hanno attivato E' uno Che è volato? Qualcuno è volato Sei scemo? Qualcuno si è spaccato I miei perone E' spassato Marco Farò un coglione Marco cosa è successo? Vabbè dai lo riattivo Ho sentito E basta Comunque è molto probabile che sia esplitto Che sia esplitto Ma cosa ha fatto? E' esplitto Ha fatto esplodere i barili qua dentro Senza avvisare niente Ma anche Manu è fatto esplodere Eh ma non hai mai detto nulla Eh perché avevo mutato Ehi C'è uno lì Ho semplicemente sbagliato E' morto E' morto E' Manu quindi? E' ho paura di passare Manu Basta non ci posso credere E' Manu Non lo so E' qui davanti a me è Manu Che fo? No dove? Dove è stato? Dove è morto? E' il barile! E' stato gatto allora Dove? Ma quindi? Manu E' morto agente Mi sa che è gatto E' qui Cosa devo fare? Non ho sparato un colpo Moro Cosa devo fare? Moro? Moro? E' morto Moro Mi è morto pure Moro Porca vacca Che manca? Ha accusato me però io non ho fatto una sega Veramente non ho sparato un colpo Quindi è Manu Eh si forza Manu mi sa Quanti siamo rimasti? Si mi sa che è Manu comunque Io io E' morto Moro E' morto anche Corvo E' o' Luke o Manu C'è un cadavere qua dentro Perchè non lo hai spirito? Perchè io non so che non è stato Va bene grazie Mi piace questa difesa Perchè non mi sono nessuno da partita Dammi una motivazione vera Per cui dovrei fidarmi E' la eh! Manu? Tu? Corvo sei vivo? Rimuoio e Manu Dico subito Morti tutti sono va bene Che c'è lì? Aspetta non mi andare a fare solo Ma dove sono i cadaveri? Non capisco io Un muore di cincischioso C'è cambio i cadaveri ma non so dove sono Di sopra lì? Sto facendo tutto il giro io sto facendo Non lo so E' probabile che sia Manu ma Non abbiamo prove Siamo rimasti in quattro credo Che c'è? Che è? Io non ho visto Ero io Ero io Ma che cretino Il silenzio però lì Edward C'è Manu qua E Che fo? Poteva spararmi eh in realtà Eh ho capito che Soltella come un cretino E' proprio un gredino Esprit Parca puttana 722 allora Mi facevi che paura Mi punti? Ma magari uno era corvo e è morto da solo così C'è un morto lì Ah è morto Tu? Come è morto? Hanno attivato la trappola Sfulminante Io sono qui E stava passando Manu Quindi non credo sia lui Cioè o se l'attiva da solo Quindi Esprit secondo me è vivo E' esploso qualcosa La vacca Iizar? Ah Corvo era un traditore Perfetto Era invisibile mi hai detto Ah era invisibile? E' ucciso un sacco Bravissimo Ah E ti sei anche suicidato? Quindi o Manu o Gatto Uno di voi due Nooo Ah che palle Perché non mi hai mai ucciso? E' perché era un alibi Ma cagare Un alibi Due erano uccili Vabbè Figliamola qua va Ancora l'ultima Facciamo l'ultima dai Io voto Brooklyn Perché abbiamo iniziato qualche Sì sì Dopo Io faccio Vabbè Aztec Siamo in pochi Si può anche fare Safetown Faccio Non mi sembra molto sicura Come scelta Nemo Ma che palle ha Vabbè ma siamo in pochi Si può anche fare Alla fine Alla fine la saltiamo sempre Non l'abbiamo mai fatta Eh ma perché Mi hanno rotto i coglioni Alla vista A Windows A Windows Che svapo Inga che svapo Non vedo l'ora di finire Sto liquido Ma non è che ho messo poco Fa schifo No non è che fa schifo E' che Voglio provare gli altri Ma quanto ne hai presi? Due o di più? 3 Ma scusa Non ci sono delle mini boccette di prova? Eh capito Ma devi comunque finire Quello che hai messo nel serbatoio Quello che hai messo nel tank Si perché Cioè io non ho messo tutta la boccetta Figurati Ne ho messo un pochino Infatti è quasi finito Manca poco No no ma dico non ce ne sono di piccole Proprio per assaggiare? No c'è quella roba tipo Eh nel negozio e le provi Esatto Oppure quella roba Come si chiamano? Quelle resistenze che ti fai tu Che le imbevi tu con le gocce Di Quella che c'ho io Con i dripper Con i dripper Si ma che due coglioni Li devi smappare davanti alla faccia Alla gente che lavora Per assaggiargliele Cos'è questo? Capito? E' loro lavoro eh Ho capito? E' lavoro di merda Posso dirlo? Beh se lo fanno Ma più che altro col dripper E' la rotola di coglioni Che devi stare poi lì Cioè anche se vuoi fumare regolarmente Devi stare lì a riempirlo ogni volta Eh sì Ci sono quelli bottom figure Qui c'ha la boccetta sotto che Ah non mi andava di tenere le tasche Però Però dipendi Io c'ho la boccetta La unicorn Che è fina E me la porto in giro E' Ogni tanto drippo Fai eh Drippo E' simpatico Lorenzo Grazie Mauro Zanotti Grazie Lorenzo Lorenzo E' simpuglione guarda Ciao Manco Gatto sta scioppando palesemente Sta scioppando palesemente Madonna Sparagli Sta anche ridendo Sparagli Gli sparò io Gli sparò io Non è vero Non è vero Gli zarchiè che gli... Questo... Maledetto Dietro Hanno tirato un uomo Ma Gatto lo uccidiamo o no? Gatto io lo sparerei eh A prescindere No Vi giuro che vi rispondo al fuoco Non ho preso nessuno Flickmarker E beh chiaro Quasi shottate Ma qual è possibile? No no Ah con l'arpione Credo mi hai preso la punta della caviglia Mentre cadeva l'arpione Si sospetto Sono sicuro 9 su 10 che sia gatto io l'altro Comunque Veramente Ma io gli sparo Cioè non è che... Sparagli Io rispondo al fuoco Non so Ma io sono innocente Mi avrete sulla coscienza eh Anch'io sono innocente Spare Moro comunque Mi ha sparato subito eh E che cazzo fa il culo Io non gli ho sparato Marco Beh no Gli hai sparato eh in realtà Moro Ero dietro di te Ero dietro di te Ho sparato completamente da un'altra parte No no E lo so ma Io mi metto nei suoi panni che si senta un attimino minacciato Era visto che era gatto Ma io Ma che cazzo vizio L'ho chiamato metterla qui qua Coglione Dai durata poco questa facciamo un'altra E gatto e gatto Fanculo tu Eh vabbè ma ti giuro era palese che stai Mi stavo grattando vaffanculo Una palese Si è difeso malissimo Ti sei difeso Si è ridendo tra l'altro Ho capito Questa volta era Siamo in live da cinquantasette minuti Ma infatti comunque non ti ho sparato io sei lì Comunque humor se non Se non ti prende la scimmia come a me Non ci spendi troppi soldoni No Se invece fai come a me E' la scimmia Oppure te li regalano eh che sei un po' pirla di su In realtà per quanto fumava poco Io ho visto Moro chiedere dei soldi in strada Se smette di fumare Inizia a svapare Anche se fa come me E ci risparmia comunque Comunque si Per come fumavo io No Io spendevo una decina d'euro Settimana Una Via Moro Una via Una via Come una via C'era la via C'era la rana Ah ci sono le rane Ah eccole qua Dove? Io ho paura non sono armato Ho finito le munizioni Dai aiuto No E' una cosa bellissima 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 Ho visto Marco non sono pazzo Non vi dico dove ma deposito una mina Non c'è Ti giuro non c'è Marco non sono pazzo l'ho vista Mica Van Gogh Ma perchè una mina Ma perchè una mina? Perché no? Sempre all'erta Torvo sempre all'erta Io piazzo la mina Piazzata la mina Porca mentana dall'altra parte Non andrei proprio per di là E' morto qualcuno con la mina Questa E' morto Moro Che è morto qui? Moro Ha detto Moro Guarda un po' che ha funzionato la mina Che era fatto a postare del ponte? Che c'è il ponte? Cosa è morto Moro? Ah eccolo Moro Consciidenziato E' visto che la mina funziona sempre? Ma è morto con la mina Moro è morto consciidenziato E' morto consciidenziato Eliezer è morto con la mina Ma porca puttede E' uno di qua comunque E' uno di qua comunque Mi sono caccato perchè prima che leggessi il nome Ho visto il cecchino silenziale Cosa c'hai? E' dalla tua parte che è arrivato E' dalla mia parte che è arrivato E' dalla mia parte che è arrivato Nessuno Catto Devo darti un regalo No perchè Chi ha ucciso Moro? E' da quella parte là E' da quella parte là Ma chi ha ucciso Moro Non era Eliezer scusa Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Nascondilo Lascialo lì No Es Mauro non prendere i punti Mauro No sto guardando i fiasso ucciso Ma deficiente coglione E' deficiente coglione Ma che fa il culo Ma che cazzo Allora Io non vedo neanche lo spettatore Gatto E' ho sparato a caso E che cacchio E' preso tantissimo Te l'hai ucciso Ma allora E' vabbè ti pareva E' sì poca macca E' qui se tu sei tu Ammazza Marco Stavo indagando Ti avrei ucciso ero dietro di te Anzi sono ancora dietro di te in realtà Marco Dimmi E' sei tu Cosa Come ci troviamo Dove ci diamo appuntamento Dimmi Dove vuoi eh Stavo indagando appuntamento di dimora Comunque io Porca vacca Perché dovete spararmi La mina è l'arma migliore del detective Io ve lo dico Senti che cianci Perché tu è stato una merda Tu sei l'arma migliore del detective Eh sì Ma marito qua sotto Ma hai sgamato subito Sono stato l'ultimo Ma non te Ma cosa c'entri tu Hai detto ma hai sgamato subito L'ho sgamato subito Questo qui è un deficiente Deve morire Te lo troviamo Se no No E se no finisce il tempo vinciamo uguale Quello è anche vero Ti regalo il liquido seminale Ma dai Dai Se n'è così Ehm fai cavolo Ehm Il migliore We are the champions Ehm E beh dopo questa vittoria Ve lo salugliano Buonanotte No sapete cosa vado a fare adesso La cacca Una se No no vado a giocare a qualunque Dio A come Chi vuoi giocare? Con Ma ci ci gioco io Ciao Franci A domani Sera Ciao amici Buon sabato E chi se ne va per troppo tempo Ha il pene lungo Ehm Quindi Anche Anche le donne Ehm Vabbè chi se ne va per troppo tempo